Nel campo della contraffazione alimentare ormai non si salva più nulla, nemmeno una manifestazione consolidata e credibile come i 100 gusti dell'Appennino. Proprio nel corso dell'ultima edizione, gli uomini del Corpo Forestale hanno rintracciato alcuni alimenti contraffatti nell'ambito dei consueti controlli che riguardano ogni anno il settore agroalimentare. 102 controlli svolti nel 2013 che hanno interessato numerosi aspetti, dalla produzione al commercio dei prodotti, come il rispetto anche dei disciplinari dei marchi, l'etichettatura e la tracciabilità. Le irregolarità rilevate sono state numerose, sia penali che amministrative. 5 le persone denunciate e 16 i verbali elevati per un importo di oltre 70 mila euro. In ordine di tempo, l'ultima operazione significativa è stata quella svolta nei primi giorni di novembre ad Anghiari, proprio in occasione della fiera dei 100 gusti dell'Appennino. Gli agenti del nucleo investigativo e dei comandi di Anghiari, Arezzo e Monte San Savino hanno notato alcuni prodotti sospetti e poi, dalle successive verifiche, sono arrivate le certezze. Tra i casi più eclatanti, il lardo conca di colonnata, la doppia L al posto della doppia N per un prodotto che nulla aveva a che fare con il famoso lardo di colonnata IGP. Per questo, il titolare di un ingrosso alimentare della provincia di Arezzo si è beccato una multa di 4 mila euro. È stato anche rilevato l'uso della denominazione Rosso di Montalcino Doc nell'etichetta di un salame, senza che il consorzio di tutela del pregiato vino avesse rilasciato alcuna autorizzazione. Infine, sono state accertate due irregolarità legate all'assenza in etichetta di alcune indicazioni obbligatorie, come lo stabilimento di produzione e il responsabile commerciale.